Interessante questo esercizio nel quale ci chiedono di determinare il baricentro del solido definito dalla seguente limitazione, il solido t, x quadro più y quadro più z quadro compreso fra 1 e 2 e z maggiore uguale della radice quadrata di x quadro più y quadro. Allora abbiamo evidentemente a che fare con due sfere, entrambe centrate nell'origine ma aventi rispettivamente raggi 1 e radice quadrata di 2 e un cono avente asse coincidente con l'asse z di vertice ovviamente che ha il vertice che sta nell'origine. Ovviamente per chi conosce bene questi argomenti si può tranquillamente accorgere del fatto che ci sono delle simmetrie importanti da ravvisare in questo caso ma qualora uno diciamo fosse alle prime armi quindi volesse non vedesse bene queste cose si può tranquillamente andare a intersecare il nostro cono con le due sfere in particolare si può andare a appunto intersecare la prima sfera x quadro più y quadro più z quadro uguale a 2 con il nostro cono z uguale radice di x quadro più y quadro. Stesso discorso nel secondo caso la sfera x quadro più y quadro più z quadro uguale a 1 con il cono z uguale radice quadrata di x quadro più y quadro. Allora abbiamo in entrambi i casi sostituendo al posto di z radice di x quadro più y quadro e elevandola al quadrato otteniamo un'intersezione fra due cerchi entrambi di centro d'origine ma di raggi differenti che sono il primo e abbiamo un x quadro più y quadro più x quadro più y quadro uguale a 2. Alla seconda cosa abbiamo un x quadro più y quadro. Perché faccio questo? Perché in pratica proietto il tutto vedo quello che accade sul piano x y. Visto che parliamo comunque di un dominio sicuramente è normale rispetto al piano x y e allora sul piano x y vedo qual è la situazione. x quadro più x quadro più y quadro uguale ovviamente a 1. Allora qua abbiamo, vedete se io faccio i conti, in un caso viene 2x quadro più 2y quadro uguale a 2 e dividendo per 2 ottengo una circonferenza di equazione della circonferenza a 20 centro dell'origine e raggio pari a 1. x quadro di y quadro uguale a 1 che interseca un'altra circonferenza del tipo questa volta x quadro più x quadro equazione x quadro più x quadro uguale a 1 mezzo. Questa volta sempre di centro origine ma questa volta di raggio pari a 1 fratto radici di 2. Se andiamo a rappresentare il tutto nel piano x y è evidente che abbiamo una corona circolare. Infatti qualora vogliate disegnare la situazione nello spazio x y z ci sarebbe un cono bucato con una calotta sferica e quello che c'è dentro sarebbe il dominio. Nel piano x y in pratica quello che si vede è questo qua. Allora chiaramente vedete che c'è una doppia simmetria sia rispetto all'asse delle x che rispetto all'asse delle y. Questa cosa comporta? Comporta che visto che ci chiedono le coordinate del baricentro che sono 3 x y z, possiamo dire che l'ascissa dell'ordinata del baricentro sono sicuramente nulle. Per quale motivo? Perché l'ascissa del baricentro per esempio x di g è data dalla seguente formula, l'integrale triplo esteso a t, ovviamente qui la densità è pari a 1, è costante, di x dx dy dz tutto fratto il volume di t. Il stesso discorso vale per la y di g che vale l'integrale triplo, allora al denominatore abbiamo sempre il volume di t, la densità in questo caso è costante, e qui abbiamo l'integrale triplo esteso a t di y dx dy dz. Ma allora visto che in questo caso, nel caso dell'ascissa, questa è una funzione dispara rispetto alla x, ma visto che il dominio è simmetrico rispetto all'asse delle y, questo qua è 0. Il stesso discorso ripete per questo, perché qua abbiamo una funzione dispara rispetto alla y e visto che c'è una simmetria anche rispetto all'asse delle ascisse, delle x, anche quest'integrale al numeratore è 0, 0 sul volume è sicuramente 0. Allora c'è solamente la z da calcolare, quindi il baricentro g, per esempio, se lo indichiamo così, o b, se non lo vedete voi, avrà coordinate 0, 0, z, dove evidentemente z sarà data dalla seguente formula, la stessa nel caso dell'ascissa dell'ordinata, solo con z dentro l'integrale triplo al numeratore. quindi abbiamo che z di g è, al numeratore, l'integrale triplo è stessa da t di z di x di y di z, tutto fratto il volume di t. Quindi dobbiamo calcolare questi due integrali triplo, l'integrale triplo è stessa da t di dx di y di z e l'integrale triplo è stessa da t di z di z di x di y di z, che possiamo calcolare sicuramente utilizzando un cambiamento di variabile. E quale? Beh, utilizzando sicuramente le coordinate sferiche. Andiamo a scriverle qui, lo ricordo, x uguale rho sen teta cos phi, y uguale rho sen teta sen phi e z uguale rho cos theta. Andiamo a sostituire, vi ricordo che il dx di y di z, quindi il giacobiano, nel caso delle coordinate sferiche, in questo caso è rho quadro sen teta. Dunque, ovviamente, sostituendo, otteniamo che il quadro, il quadro, il quadro in coordinate sferiche è rho quadro, quindi otteniamo che rho quadro è compreso tra 1 e 2, che poi significa rho compreso fra 1 e la radice di 2. Quindi questo già lo possiamo dire. Direi che su questo non ci sono sicuramente dubbi. Rho compreso fra 1 e la radice quadrata di 2. Dopodiché, a posto di z, ci mettiamo rho cos theta, maggiore uguale. Dunque, vi ricordo che x quadro e y quadro in coordinate sferiche, se avete guardato tanti esercizi sul passaggio di coordinate sferiche che abbiamo svolto sull'integrale tripli, è rho quadro sen quadro teta. Infatti, qua verrebbe rho quadro sen quadro teta sen quadro fi, più rho quadro sen quadro teta cos quadro fi, più rho quadro sen quadro teta sen quadro fi, raccogliendo un rho quadro sen quadro teta, ci avanza la somma fra sen quadro fi e cos quadro fi, che per prima relazione fondamentale nella gonometria è ovviamente pari a 1. Quindi qua otteniamo un rho quadro sen quadro teta. Fi ovviamente, non figura, è variante tra 0 e 2 pi greco. A questo punto abbiamo già trovato tra cosa varia rho e tra cosa varia fi. Dobbiamo vedere tra cosa varia teta. Qua abbiamo che questo diventa un, dobbiamo scrivere qua, rho compreso sicuramente fra 1 e la radice di 2, fi compreso sicuramente tra 0 e 2 pi greco. Qui avremo che radice di rho quadro è rho, rho è per definizione positivo raggio vettore. Radice di sen quadro teta sarebbe modulo di sen teta, ma visto che abbiamo considerato la simmetria e quindi possiamo riferirci comunque a un seno e un coseno di teta positivi, visto che comunque c'è la simmetria, possiamo dire che cos teta è maggiore o uguale non del modulo di sen teta e allora, come sappiamo in questo caso, come si risolve questo? Beh, tenendo presente che possiamo dividere per sen teta, perché sentite cosa sono entrati positivi, visto che stiamo considerando quel primo quadrante di quella corona circolare che abbiamo rappresentato prima nel dominio, possiamo dire che teta è compreso pertanto tra 0 e pi greco quarti. credo che su questo non ci siano dubbi. La soluzione sarebbe teta compreso fra meno pi greco quarti e pi greco quarti, ma ovviamente, visto che siamo nel primo quadrante, teta compreso fra 0 e pi greco quarti. Siamo nel primo quadrante perché per la simmetria, visto che c'è simmetria sia rispetto alla 6 che rispetto alla 6y, si può considerare solamente il primo quadrante di quel dominio che abbiamo proiettato sul piano xy. Trovate le limitazioni di valori entro cui va la rho, entro cui va la teta, entro cui va la fi, possiamo subito calcolare, cancello a questo punto, l'integrale triplo che sta al numeratore. Quindi abbiamo che l'integrale triplo è steso a t di z di x di y di z, si può scrivere come l'integrale triplo è steso dal dominio u, nelle nuove coordinate rho, teta e fi, di z e un rho cos theta in coordinate sferiche che moltiplica un rho quadro sen theta, che è il nostro dx, dy, z di giacobiano, del passaggio a coordinate sferiche che moltiplica un d rho, d theta, d fi. Questo è ancora uguale all'integrale sicuramente fra 0 e 2 pi greco di d fi, applicando la decomposizione, che moltiplica l'integrale tra 0 e pi greco quarti di un sen theta cos theta, d theta, infine che moltiplica l'integrale fra 1 e la radice quadrata di 2 di rho al cubo d rho. Dunque si possono risolvere tutte e tre integrali singolarmente, perché abbiamo tutti integrali varianti fra costanti, e quindi possiamo dire che l'integrale fra 0 e 2 pi greco di d fi è un 2 pi greco, 2 pi greco che moltiplica l'integrale tra 0 e pi greco quarti di sen theta cos theta, è un integrale immediato, perché la derivata di sen theta è proprio il coseno di theta, quindi è un mezzo che moltiplica il seno di theta elevato al quadrato, che comprendiamo fra 0 e pi greco quarti. A sua volta che moltiplica ancora, l'integrale di rho cubo, l'integrale immediato è rho alla n più ul vato n più ul, quindi è un rho quarto quarti. Tutto fra 1 e la radice di 2. Allora, applichiamo in due volte, applichiamo qui e qui, quindi in due casi, il termine fondamentale del calcolo integrale e avremo trovato il valore che c'è al numeratore. Quindi abbiamo il seno di 0 è 0, 0 al quadrato 0, 0 per un mezzo è 0, quindi c'è solamente la prima parte del termine fondamentale del calcolo integrale qui, il seno di pi greco quarti, ve lo ricordo, vale 1 fratto la radice di 2, cal quadrato è un mezzo, quindi abbiamo un 2 pi greco, un mezzo per un mezzo è un quarto, che moltiplica, allora lì abbiamo un radice di 2 alla quarta è un 4, quindi abbiamo un 4 quarti meno, detto una fondamentale del calcolo, un quarto. 4 quarti meno un quarto è un 3 quarti, otteniamo in definitiva un, allora il 2 col 4 qua si può semplificare, abbiamo un pi greco mezzi, che viene dal prodotto di questi due, che moltiplica un 3 quarti. 3 pi greco ottavi, 3 pi greco ottavi è il valore che abbiamo trovato relativamente al numeratore. Calcoliamo a questo punto il volume di t, ripetendo gli stessi discorsi fatti nel calcolo del numeratore. Qui è ancora più semplice, perché abbiamo un integrale triplo, il volume, lo ricordo, di questo solido è l'integrale triplo esteso a t di dx, dy, dz, quindi dobbiamo mettere qui, questo è uguale all'integrale triplo esteso al nuovo dominio u in rho, teta e fi, di ovviamente al posto del dx, dy, dy, di ovviamente c'i giacobiano, che lo ricordo è rho quadro sem teta. De rho, de teta, de fi. Anche qui l'integrale tra 0 e 2 pi greco, le limitazioni sono ovviamente le stesse, di u, di de fi, l'integrale tra 0 e pi greco quarti di sem teta, de teta, che moltiplica l'integrale tra 1 e la radice di 2, di rho al quadrato de rho uguale. Allora abbiamo subito che, come al solito, risolviamo, visto che tutti i tre integrali variano fra costanti, possiamo tranquillamente risolvere singolarmente, abbiamo un 2 pi greco qui, l'integrale di de fi tra 0 e 2 pi greco e un 2 pi greco per il teorefondo di calcolo integrale, l'integrale di sem teta, ve lo ricordo, ma come primitiva meno cos teta, che andiamo a comprendere ovviamente fra 0 e pi greco quarti, e poi abbiamo un rho cubo terzi, che andiamo a comprendere fra 1 e la radice di 2. Facciamo i conti senza sbagliare, se è possibile. Allora abbiamo un 2 pi greco che moltiplica. Per il teorefondo di calcolo, il coseno di pi greco quarti è 1 fratto radice di 2, con meno un meno 1 fratto radice di 2, meno del teorefondo di calcolo, per questo meno più il coseno di 0 è 1. Tutto che moltiplica, radice di 2 al cubo è un 2 volte radice di 2, ovviamente terzi, meno 1 al cubo meno un terzo. semplifichiamo sopra, andiamo a cancellare, visto che ormai la regola l'abbiamo scritta. Molto semplice questo esercizio, ricordate, non ne faremo anche altri quando parleremo dei soli di rotazione, ricordatevelo perché è un esercizio che spesso può capitare. Allora, qui possiamo fare un minimo comune multiplo, ma possiamo anche scrivere meno 1 fratto radice di 2 come radice di 2 su 2, quindi questo si può scrivere come, anziché 1 fratto radice di 2 come radice di 2 su 2, mi permette di scriverlo qui senza saltare un passaggio, quindi senza andare oltre un passaggio. Quindi facciamo un minimo comune multiplo qua, abbiamo un 2 pi greco che moltiplica, 2 sotto di minimo un multiplo, abbiamo un 2 meno radice di 2. Qui abbiamo un minimo comune multiplo che invece è 3, 2 radice di 2 meno 1. Quindi questo qua, tutti quanti i prodotti. Allora abbiamo 2, questo 2 è semplifico, allora il pi greco rimane, poi siamo andati con quel pi greco lì, moltiplichiamo, abbiamo sicuramente un pi greco terzi che moltiplica, allora moltiplichiamo numeratore per numeratore, 2 per 2 radice di 2 è un 4 volte radice di 2, 2 per meno 1 è un meno 2, meno per più o meno, radice di 2 per 2 radice di 2 è un 4, perché abbiamo radice di 2 per radice di 2 che è 2 per 2 è 4. e poi abbiamo un meno radice di 2 per meno 1, meno per meno più, più radice di 2 fratto 1. Quindi il risultato del volume di t è un 4 radice di 2 più radice di 2 è un 5 volte radice di 2, meno 6, tutto fratto 3, tutto quanto pi greco. Questo è il volume. Lo scriviamo, quindi abbiamo un 5 radice di 2 meno 6, tutto fratto 3 che moltiplica pi greco. Allora subito pi greco e pi greco se ne vanno, andiamo a eliminare queste linee di frazioni mettendone solamente una sola. e dunque abbiamo che questo lo possiamo scrivere come 3 ottavi diviso questo, quindi per 3 fratto 5 radice di 2 meno 6. il risultato di questo z, che poi è l'unica coordinata del baricentro che c'è, è un 9 ottavi, è un 9 ottavi che moltiplica 1 fratto 5 radice di 2 meno 6. Si può ovviamente anche andare a razionalizzare, quindi moltiplicare e dividere per 5 radice di 2 più 6, ma io eviterei questo. possiamo dunque dire che il nostro baricentro richiesto, di questo un solido, avrà coordinate 0, 0 e 9 fratto 8 che moltiplica 5 radice di 2 meno 6. Ecco risolto il facile esercizio proposto.